Quando ero ragazzino, in prima licea sono andato in un mese tre volte dall'oculista perché volevo convincere a darmi gli occhiali, perché secondo me l'intellettuale lo faceva l'occhiale. Il mio primo incontro con Giovanni Lindo Ferretti risale, se non sbaglio, oramai al lontano 2003-2004. Mi ricordo che fu a Roma e in occasione della presentazione del loro primo disco come PGR, come formazione PGR, che era questa formazione che aveva fatto seguito a quella che c'era prima, e CSI, quindi il Consorzio dei Suonatori Indipendenti, e prima ancora dei CCP. E mi ricordo che ero curioso ovviamente di conoscerlo, e c'era questa presentazione in un luogo abbastanza appartato, c'era lui, c'erano altri componenti del gruppo. ed è una presentazione come si presenterebbe un libro, quindi molto conviviale, con alcuni ascolti, ascolti che erano poi inframmezzati da dei ritorni sulla parola, sulla discussione, sul perché di aver scelto certi temi e certe musicalità. e mi ricordo che in quell'occasione ero andato appunto a far visita e a partecipare a questo bellissimo evento, portandomi dentro lo zanetto una cassetta WHS, che conteneva un, chiamiamolo, cortometraggio, forse cortometraggio, comunque una clip montata su musica elettronica, tra l'altro la musica elettronica era di un gruppo che all'epoca andava molto alla moda, più che un gruppo, era un insieme di musicisti che facevano rielaborazioni elettroniche, erano Krüder e Dorfmeister, quindi musica che veniva soprattutto dall'ambito austriaco, e in questa videoclip era un omaggio a un luogo che per me è stato caro ed ancora carissimo, la mia seconda patria probabilmente se non altro la patria dell'anima, dell'anima e la patria della mia anima profonda, che è Kathmandu, quindi la capitale del Nepal, ed era proprio un videoclip montato con immagini che avevo girato a Kathmandu negli anni precedenti, nei luoghi più assurdi e disastrati della metropole malayana, c'erano frammenti delle baraccopoli di Kathmandu, c'erano frammenti dei templi a pagoda di Kathmandu, c'erano frammenti delle cerimonie sacre che si svolgevano intanto in tanto pubblicamente nella città, c'erano immagini dei luoghi orrendi di Kathmandu, come i mattatori di Kathmandu, dove questi fiumi di sangue andavano a riversarsi in un fiume che tra l'altro era un fiume sacro, che era un fiume sacro. C'erano le immagini della morte e della vita, della morte e quindi dei luoghi di cremazione di Kathmandu e della vita, quindi i bambini, la gioia, il mercato, i clacson delle auto. Mi ero portato dietro questo piccolo mio lavoro e mi ricordo che è finita la presentazione quindi del disco di PGR e Giovanni Lindo Ferretti usciva, uscì, e io lo seguì a un certo punto molto timidamente e gli dissi buongiorno, mi chiamo tal dei tali e avrei questa cosa per lei. E molto gentilmente, cogliendo appunto l'opportunità di un momento in cui Giovanni era solo, ne approfitto e lui molto gentilmente mi diceva di cosa si tratta eccetera eccetera, io proprio in pochissime frazioni di secondo a condensare il tutto e molto gentilmente Giovanni apre una borsa che aveva con sé, se non sbaglio una sorta di borsa di stoffa che aveva tracolla e fa sì che io ci possa buttare dentro questo VHS e con questo VHS nasce un po' a inizio un po' la storia del rapporto con Giovanni Lindo che quelle che erano le mie ipotesi di allora dico vabbè una persona così ogni giorno riceverà rompiscatole come Martino e quindi la cassetta chissà dove finirà, questo antico VHS e lì si chiuderanno i giochi. Invece non fu così perché in maniera molto inaspettata, essendoci scambiati i telefoni, vari mesi dopo mi ricordo che ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto, io avevo da poco, mi avevo comprato i telefonini perché cercavo di resistere all'impatto tecnologico di quell'epoca. E da questo numero sconosciuto sento la voce di Giovanni che mi dice buongiorno sono Giovanni Lindolo, Giovanni Lindo Ferretti. Giovanni buongiorno. In maniera inaspettata Giovanni mi dice ho avuto modo di, non mi ricordo più se ci davamo ancora del lei o del tu già. Ho avuto modo di vedere, di visionare la tua cassetta, il materiale che mi hai mandato, mi è interessato molto. Ascolta Martino, io sto creando una scuola d'arte a Bologna che sarebbe da lì a poco chiamata La Bottega e avrei desiderio che tu venissi a insegnare in questa scuola perché penso che uno come te con il tuo sguardo, mi diceva, potrebbe essere un contributo forte a quello che sto inventando. Ovviamente, ho risposto in mia tette, sì, ma sapere se sono altezza o meno. Facendo piccola premessa che appunto evidentemente Giovanni aveva visto un po' io vi ho spiegato in maniera succinta che non ero ancora, almeno non lavoravo essenzialmente come artista, ma lavoravo come antropologo. Il lavoro di antropologo mi aveva portato a viaggiare in moltissimi posti, a viaggiare soprattutto in Nepal, in Tibet, in India. Dali a poco sarei partito per il Pakistan. Quindi un po' di conoscere il mondo, di conoscere il mondo in una modalità meno declinata dei grandi canali di viaggio. Quindi le pieghe nascoste del mondo. Già all'epoca, da tanti anni, lavoravo con gli sciamani malayani, con le danze sacre della valle di Kathmandu e cose di questo tipo. Quindi probabilmente era questo che lo aveva in qualche modo incuriosito. E dopo questa chiamata nasce, nasce quindi questo primo rapporto, che è un rapporto professionale con Giovanni Lindo, per cui nasce la bottega, la bottega parte, parte molto bene, c'è un bel team di insegnanti. In questa scuola si insegnano varie cose, si insegna arte, si insegna ai ragazzi, almeno ipoteticamente, questo nelle premesse originarie dell'iniziativa. Si insegna ai ragazzi l'arte, l'arte declinata esattamente come avveniva nelle antiche botteghe, quindi maestro e, chiamiamo discepolo, maestro e apprendista che lavorano a gomito a gomito, per cui il sapere si trasmette non tanto per conoscenze teoriche, ma per un savoir-faire che viene comunicato in tempo reale. C'è l'occhio, c'è lo sguardo, c'è l'ascolto, c'è l'ascolto di respiri vicini, quello dell'insegnante, quello dell'apprendista. Ci sono più insegnanti, tant'è vero che questa scuola permette di imparare, c'è la sezione parola, quindi il lavoro sulla parola e sul linguaggio in forma poetica, di cui è responsabile Giovanni stesso e accompagnato nel suo lavoro da me, tant'è vero che a me mi aveva scelto proprio per la parte della parola. C'è poi la musica, c'è poi il video e c'è poi anche una cosa che secondo me era sorprendente per l'epoca, una parte dedicata proprio alla corporeità. Corporeità quindi significava danza, ma anche veramente ascolto corporeo ed era stato affidato questo ad una insegnante, una ragazza francese, Isabelle, che si occupava proprio di questo aspetto, per me ancora molto distante, all'epoca non lavoravo con il corpo, mi interessavo al corpo nelle modalità più stupide, fondamentali ma piuttosto elementari, quindi la pratica del corpo e la conoscenza del corpo attraverso lo sport, attraverso le arti marziali, attraverso la fatica, attraverso i trekking i malayani per arrivare nei villaggi dove lavoravo, la conoscenza del corpo che passa per la sessualità. Ma niente più e niente meno di tutto questo. Però lì ci fu già una scintilla perché poi il corpo dali a poco sarebbe invece diventato l'elemento detonante di tutto il mio seguente percorso come uomo, come professionista. Quindi nasce la bottega, nasce con dei ragazzi all'epoca giovanissimi, all'epoca, per fortuna all'epoca ancora molto ingenui, poi molti di loro questa ingenuità l'avrebbero perduta rapidamente. Ed è stata un'esperienza, per il tempo che è durata, per alcuni anni, magica. Per cui c'erano questi appuntamenti, soprattutto il fine settimana, dove i vari insegnanti da varie parti d'Italia si riunivano in bottega, ognuno aveva il proprio gruppo, alle volte c'erano poi queste lezioni collettive, lezioni collettive in cui appunto c'era un ascolto generale, ognuno esponeva, i ragazzi esponevano, gli insegnanti ciascuno rispetto alle proprie capacità e competenze e sensibilità esponeva. E in questo splendido posto, perché era una scuola ricavata al centro di Bologna, in una specie di quasi semi-interrato, quindi molto arcaica già la situazione, con queste volte, queste colonne, degli spazi anche molto scabri. Mi ricordo c'erano solo i tavoli, c'erano i computer, c'erano le seggiole e c'era soprattutto imperante alcune piccole testimonianze di ciascuno degli insegnanti, e tra cui quella di Giovanni che aveva portato il cranio di uno dei suoi più amati cavalli, che era appunto morto anni prima e lui ne aveva conservato il cranio. Mi ricordo imperante in bottega c'era il cranio di questo cavallo sistemato su un muro, in bella vista. E fu un'esperienza veramente fulgorante. Io in quell'epoca, mi ricordo, ero tornato da poco, tra l'altro da un mio lungo viaggio, un periplo tra Vietnam, Laos, Thailandia, poi l'Università di Cambridge mi aveva chiesto una collaborazione, quindi ero andato a lavorare in Tibet, a filmare dei rituali in Tibet, poi ero sceso in Nepal, insomma ero tornato un po', come solsi dire, un po' fuori di testa, molto quadrato, ma nello stesso tempo anche con una grande effervescenza interiore. Mi ricordo che mi ero riportato, in quell'anno ero rimasto fulgorato a Kathmandu, visitando alcune sorti di luoghi dove si vendono oggetti usati, dove si vendono oggetti rituali antichi, quindi un bricca bracca di tutto quello che di magico e non magico, di artigianale, può esistere in Nepal. Da varie parti del Nepal veniva accumulato in questi negozi buissimi, polverosissimi di Kathmandu. Avevo riportato una freccia, una freccia da caccia, chissà di quale tribù, himalayana, ed era una freccia bellissima in bambù, appunto, con una punta affilatissima di freccia, di metallo, di ferro fatta a mano, e il piumaggio, appunto, le piume erano delle vere proprie piume di uccello legate con del filo. Ero rimasto fulgorato e per me la freccia è un simbolo potentissimo, la freccia significa, appunto, l'avere una direzione, il muoversi, il desiderio di non rimanere mai fermi in un luogo, ma di scoprire, di andare avanti, di perlustrare, di indagare, di muoversi veramente in maniera leggera nell'universo. È un simbolo che richiama poi il mondo della caccia, quindi il mondo selvatico, la potenza della natura, la potenza indomita della natura, lì dove l'uomo ancora non interviene. E mi ricordo che, appunto, ero rientrato in Italia e non riuscivo a staccarmi da questa freccia, tant'è vero che mi ero fatto una sorta di piccolo astuccio e quando mi muovevo in varie parti d'Italia nei miei viaggi mi portavo sempre dietro questa freccia. Mi ricordo che, appunto, una volta arrivai in bottega, appunto, con la mia freccia, il mio doppio freccia, e l'unico che si accorse di questo fu Giovanni che, appunto, mi chiese, ma cosa c'è lì dentro, Martino? E' una freccia, la freccia. Appunto, usci fuori e da lì, mi ricordo Giovanni, mi cominciò, appunto, a chiamare l'uomo con la freccia. E con le sue espressioni, spesso non verbali, ma solo, diciamo, facciali, molto, molto eloquenti, fece un'espressione, come dire, se tanto non li troviamo strani, ovviamente qui non ci possono stare, come dire. A me capita solo gente strana, alla fine, solo persone un po' particolari, ovviamente, alla fine entrano in una, nella mia sorta di, di, di zona di, di, di attrazione magnetica. Le lezioni e il lavoro svolto, imbottegando, molto bene, mi ricordo, e soprattutto mi ricordo di un episodio bellissimo, che tra l'altro poi so che Giovanni Lindo ha riportato in un, in un suo libro, che è, se non sbaglio, bella gente dell'Appennino. Una lezione che mi fu chiesta di fare per i ragazzi, proprio relativamente al corso di parola, poi quando dico parola c'era tutto, c'era, c'era parola, c'era appunto la capacità di, di esprimersi, la capacità di vedere ciò che normalmente non si vede e di riportarlo, quindi, attraverso dei frammenti verbali. Ma c'era un po' tutto, c'era filosofia, si parlava di, di religioni orientali, si parlava di yoga, si parlava di meditazione, si parlava di tantissime cose, proprio la bottega era una, una fucina incredibile di, di, di idee, di contaminazioni, tanto è vero che la musica si mescolava alle cose video, le cose video si mescolavano alle cose, appunto, che riguardavano la parola e quant'altro. E una volta ci fu una bellissima lezione, non perché la feci io, ma perché l'argomento era talmente potente, misterioso, affascinante, che era proprio il tema, era il post-mortem nella cultura tibetana. Quindi il tema era il cosetto bardo, vale a dire quella serie di insegnamenti sacri che sono tramandati da millenni in Tibet, sia nella religione buddista che in quella pre-buddista, e che riguardano per l'appunto le esperienze della persona nell'aldilà, vale a dire tra il momento in cui avviene la morte fisica e la successiva reincarnazione della persona. Quindi tutto l'insieme di esperienze, soprattutto di natura visionaria, a 360 gradi, in una dimensione infinita, dove appunto le coordinate non sono più quelle euclidei, in cui in realtà, come dicono i tibetani, tutto ciò che noi abbiamo dentro, un po' come appunto l'esperienza del trovarsi a lume spento, che abbiamo dentro, che abbiamo accumulato dentro nella nostra ultima esistenza, ma anche residui delle esistenze precedenti, si proiettano all'esterno. Non esiste più un mondo reale, esiste solo un mondo parallelo, dove la nostra mente è quella che crea il palcoscenico e i personaggi di queste visioni, e dove tutto ciò che noi abbiamo dentro, come ricordi latenti, come emozioni presenti e come karma, realmente, si manifesta fuori. E questo avviene nelle forme più inaudite, può avvenire sotto forma di visioni di luce, di colori, di suoni, di tuoni. E lo spazio si riempie nel defunto, lo spazio attorno al defunto si riempie di queste visioni, che talvolta hanno un aspetto pacifico, e talvolta hanno un aspetto invece terrifico, proprio perché quello che esce è tutto ciò che noi siamo dentro. E tanto più non abbiamo, come si direbbe con un termine alla moda oggi, risolto delle cose, tanto più queste cose si manifestano. E l'insegnamento tibetano è quello, appunto questo famoso testo, insieme di testi, chiamato il Bardot-Tedöl, ci insegna che il defunto deve essere in grado, e per questo non basta, appunto, dirlo a parole, ma ci vale un addestramento che dura tutta una vita, deve essere in grado di comprendere come, in questa dimensione del post-mortem, tutto ciò che lui vede, altra non è, se non la proiezione di lui, di ciò che lui ha dentro. Non è niente di reale quello che appare. Queste divinità mostruose, questi esseri che riempiono lo spazio per intero, e che ovunque il defunto guardi, a destra e a sinistra, occupano totalmente lo spazio visivo, l'intero spazio sensoriale, poiché dicono i tibetani che il defunto, appunto, nel dal di là porta con sé una sorta di corpo sottile, impalpabile, che ancora ha la capacità di sentire e di esperire le cose in maniera molto più raffinata di quanto non facciano i nostri sensi fisici in vita, tant'è vero che si dice che tutto viene amplificato almeno di sette volte rispetto alle esperienze che abbiamo qua. Quindi con questo corpo sottile, con questi sensi sottili, questo accade. E mi ricordo che questa lezione creò veramente un sacco di domande, un sacco di quesiti, per alcuni era la prima volta che si sentiva parlare di Asia e non si sapeva neppure che, ecco, questi splendidi monaci tibetani, rasati, abbigliati, sempre in così ordine, così eleganti, quindi nella loro uniforme religiosa, avessero degli insegnamenti così dettagliati, così profondi, su un tema così tabù e difficile e delicato da trattare, come quello della morte e di ciò che accade a noi, esseri umani, dopo la morte. Le lezioni, quindi il lavoro svolto nella bottega di Bologna, grazie a Giovanni Lindo, aprivano poi altri canali di rapporto, che erano una frequentazione personale. e quando si concluse l'esperienza della bottega, molti nuovi insegnanti hanno continuato a rimanere in contatto con Giovanni, in varie forme. Per me il rapporto continua in maniera molto naturale e spontanea, mi ricordo moltissime volte, moltissime, alcune volte quando c'era opportunità che Giovanni non aveva i concerti, lo chiamavo, dico Giovanni posso venire da te, ti faccio una visita, magari stiamo un paio di giorni assieme. E così accade, quindi ogni tanto andavo da lui, rimaneva un paio di giorni, all'epoca ancora sua madre era in vita, e c'era anche suo zio in casa di Giovanni, questa bellissima casa, c'è il retro Alpi, questa sua casa natale di Giovanni, poi ristrutturata in una modalità molto barbara, direbbe forse Giovanni, molto austera, ma molto bella e molto consona al suo carattere. E soprattutto era questo spazio dove noi potremmo discutere, era la sua biblioteca, dove tranquillamente ce ne stavamo seduti sulle poltrone per chiacchierare, soprattutto poi piano sopra di casa di Giovanni, che è bellissimo, dove c'è questa sua stanza dove lui dorme, che ha questa particolarità totalmente unica, secondo me, c'è questa bellissima stanza da letto, con questo letto anch'esso austero, non grande, non piccolo, e poi in un angolo, ma non tanto in un angolo, quasi al centro della stanza c'è una vasca da bagno, una vecchia vasca da bagno, dello stile, queste con i piedi, per cui ecco, questo dettaglio mi aveva colpito, mi ricordo, questa stanza da bagno, questa vasca da bagno all'interno della camera da letto di Giovanni Lindo. E questo rapporto, che poi era diventato un rapporto, direi, profondo, e soprattutto con Giovanni, si sa, è un uomo talmente quadrato, e per certe cose, direi, talmente in asse che c'è una cernita spontanea quando si è vicino a Giovanni, su ciò che si dice, ciò che se non si dice, gli argomenti che si toccano e quelli che non si toccano, per cui, stando vicino a Giovanni, è una delle varie persone che permette di, veramente, di mantenere un'ottava altissima nella comunicazione. Per cui, tutto ciò che si dice ha importanza, tutto ciò che si dice ha valore, tutto ciò che si ascolta ha valore, e tutto ciò che si sta per dire, proprio nel momento in cui uno lo sta per dire, si cerca di dirlo nella maniera più giusta possibile. Quindi, niente fronzoli, è il senso che deve passare, e quello che deve passare passa unicamente si viene espresso in una maniera molto scabra e molto affilata. E da questa frequentazione è nata una vera e propria collaborazione anche professionale. A quell'epoca avevo creato assieme a un altro insegnante di bottega, che era Roberto Passuti, che si occupava soprattutto del lato musicale, del lato tecnico musicale, nella formazione dei ragazzi, lui è un grandissimo ingegnere del suono, oltre che musicista. Con Roberto all'epoca abbiamo creato una, che esiste ancora, un'etichetta musicale che si chiama Stenopeica, il cui logo è allucinante, perché appunto l'idea fu quella di usare come logo un ingrandimento al massimo di una foto di Nadal a Baudelaire. E quindi il logo di questa nostra etichetta musicale Stenopeica era proprio un un ingrandimento della pupilla di Baudelaire, del poeta Baudelaire. Perché? Perché io personalmente mi sono sempre domandato cosa avrà visto quella pupilla, cosa è passato per quella pupilla e cosa ha permesso quella pupilla a quell'uomo che era dietro quella pupilla, a quel genio che era dietro quella pupilla, cosa gli ha permesso di creare. Quindi per me quella pupilla era una pupilla gigantesca, non semplicemente un forellino attraverso cui è passata luce, sagome, mondi, ma per me è stata veramente già un atto creativo quel non luogo perché la pupilla appunto è un buco, non è un niente, l'isolo passa, è un deflettore d'immagine, canalizza le immagini che vengono fuori e poi il genio le rielabora a modo suo. E quindi abbiamo deciso di chiamarla Stenopeica anche perché Stenopeica per chi conosce questo termine è un approccio alla fotografia che appunto utilizza delle macchine fotografiche dove guarda caso non esiste nell'apparecchio fotografico un vero e proprio obiettivo come lo conosciamo noi ma al posto dell'obiettivo esiste appunto un forellino che proprio in modo simile alla pupilla di Baudelaire è un buco e a tutte le nostre pupille buco cosa fa questa pupilla semplicemente questo forell fa passare il mondo senza intermediazione di un vetro senza intermediazione di un obiettivo all'interno dell'apparecchio fotografico e lascia che in maniera senza alcun filtro il mondo si trasferisca direttamente sulla pellicola e lo impressiona quindi abbiamo creato questa etichetta Stenopeica che era un'etichetta che tra l'altro si occupava l'intento era quello da una parte di raccogliere l'abbiamo fatto per tanti anni dei patrimoni musicali rituali quindi legati a delle liturgie antiche che stavano scomparendo quindi mi aveva aiutato Roberto mi aveva munito all'epoca c'erano dei DAT come strumento di registrazione con dei microfoni con dei sistemi un po' difficili anche da trasportare e io mi ricordo giravo ho girato durante le mie ricerche per anni in Asia con queste attrezzature e dove potevo registravo abbiamo registrato i canti di caccia degli sciamani malayani abbiamo registrato le danze sacre della tradizione tantrica della valle di Kathmandu abbiamo poi continuato a lavorare nelle musiche con le musiche dei Sufi nel nord del Pakistan in Dukush e da questa bellissima iniziativa è poi nato anche tra gli altri un bellissimo CD che si chiama The Path of Light che è dedicato proprio alla musica liturgica dei monaci Bön dei monaci pre-buddhisti del Tibet e ne abbiamo creato una vera e propria collana che si chiama Seeds of Sound in the Autunno cioè semi di suono nell'autunno del potere cioè salvare dei semi di suono legati a delle liturgie sacre che hanno quindi una potenza spirituale questi suoni al loro interno registrarli perché non si perdano perché sono tradizioni che stavano già scomparendo molte all'epoca soprattutto quelle degli sciamani i malayani una tradizione musicale totalmente orale tramandata da sciamano anziano a neofita sciamano e che abbiamo in qualche modo preservato attraverso questa iniziativa quindi da una parte un lavoro sulla cosiddetta musica etnica ma molto molto specifica quindi andare a cercare registrare patrimoni musicali che stavano scomparendo e ne abbiamo fatti i vari cd e poi un'altra parte che invece è legata soprattutto a un'attività più creativa che è invece una una scelta di fare musica elettronica musica sperimentale quindi di cui Roberto si occupava e continua a occuparsi della parte prettamente musicale mentre Martino è più legato alla parte testi scrittura di testi eventualmente alla parte visiva e grafica se esiste e se serve e in piccola parte anche alcune parti diciamo di interpretazione vocale e Giovanni Lindo a quell'epoca in maniera molto generosa collaborò a queste iniziative soprattutto alle iniziative che riguardavano il la parte proprio di musica sperimentale e grazie a Giovanni abbiamo registrato dei bellissimi brani di musica dedicati alla soprattutto alla città di Kathmandu quindi Kathmandu Eclissi delle Due Lune Kathmandu Disyacta Membra quindi Kathmandu Membra Sparse questo secondo CD a cui tra l'altro parteciparono all'epoca Franco Battiato e in maniera molto generosa devo dire anche Teresa De Sio e Giovanni quindi veramente in maniera estremamente prodiga collaborò a queste iniziative che sono veramente il segno tangibile secondo me di un bellissimo e profondo rapporto con Giovanni da questa serie di collaborazioni musicali con Giovanni Lindo negli anni poi ne è scaturita anche un'altra secondo me estremamente significativa e l'occasione è stata un cortometraggio che avevo girato nel nord della Thailandia un cortometraggio girato tra l'altro in pellicola superotto quindi le vecchie cineprese quelle degli anni 70-80 analogiche quindi funzionavano ancora in pellicola e per me in pellicola quindi bianco e nero ed era un lavoro legato a delle mie ricerche nel mio percorso io stavo già uscendo dall'antropologia in senso scientifico accademico e stavo invece avvicinandomi in maniera consistente al lavoro come artista multimediale e all'epoca appunto stavo lavorando per un'università in Scozia e il mio lavoro era appunto quello di di raccontare attraverso le parole quindi attraverso la modalità della scrittura creativa attraverso i suoni e attraverso soprattutto le immagini la dimensione una dimensione umana molto poco conosciuta o forse molto conosciuta di facciata ma molto meno conosciuta per i loro per i suoi svolti profondi una storia è una vicenda umana etnica culturale molto molto triste che è quella delle cosiddette donne giraffa donne giraffa che questo termine designa appunto le donne che appartengono a bellissima e nobilissima tribù del nord dell'Atalandia come dicevo prima ma più che il nord della Trelandia questa tribù che sono i Kayan sono originari della zona orientale della Birmania ma questa minoranza etnica come molte altre minoranze etniche della Birmania purtroppo sono in guerra con l'autorità centrale quindi col governo militare centrale da più di 50 anni ormai forse anche di più autorità centrale che cerca di soffocare ovviamente l'indipendenza e l'autonomia di queste etnie che da sempre hanno occupato questi territori e che quindi hanno legittimamente chiesto un loro riconoscimento non solo culturale ma anche politico civile sociale e quindi c'è una guerra civile nata da tantissimi decenni in Birmania tra i Kayan e altre etnie simili come quella più nota dei Karen che ha fatto sì però che nel corso di questi anni la maggior parte o almeno una buona parte della popolazione fuggisse dai territori della Birmania per ritirarsi come profughi nei paesi vicini prima fra tutti ovviamente la Thailandia che confina con con la Birmania attualmente chiamata appunto Myanmar e la cosa particolare è che i profughi questi profughi arrivati in Thailandia più ondate nel corso degli anni diciamo il governo thailandese ma anche le agenzie che appunto si occupano di promozione turistica agenzie a livello governativo dico che si occupano di la promozione turistica in Thailandia che voi sapete il turismo in Thailandia è ben diffuso ma è ben diffuso e conosciuto soprattutto nelle zone legate alle splendide spiagge le isole della Thailandia il turismo di Bangkok la splendida città di Bangkok ma molto meno diffuso e promosso è il turismo nelle zone a nord della Thailandia le zone montagnose della Thailandia quelle che da secoli da millenni sono abitate da etnie che vengono chiamate appunto nel gergo appunto locale i montagnar sono delle etnie la maggior parte di stirpe tibeto-birmana a cui proprio per via della presenza dei profughi della fuga dei profughi Kayan dalla Birmania si è aggiunta anche l'etnia Kayan e soprattutto le donne dell'etnia Kayan le cosiddette donne giraffa donne giraffa che sono definite così proprio perché è costume tribale che le donne a partire da in genere dall'età della pubertà o anche prima cominciano a indossare delle spirali di metallo attorno al collo che hanno come risultato quello di produrre un visibile allungamento del collo in realtà non è che il collo si allunga sono le spalle che scendono dando questa impressione di queste donne con questo lungo collo avvolto avvolto da queste spirali da questa torre di spirali da un'unica spirale che però è costituita ecco da questo metallo che viene avvolto con gran cura attorno al collo e che fa l'elemento distintivo delle donne Kayan tra l'altro la storia è interessante si dice che le donne utilizzino questa monile che è più che un monile veramente un ornamento che poi viene indossato sostituito che la donna che la bambina cresce ma poi diventa un ornamento tenuto a vita che accompagna la donna anche nella nella tomba e si dice che l'origine sia legata al fatto che un mito il mito di creazione del popolo Kayan parla proprio del fatto che una entità totemica cioè una delle entità importanti nell'epoca del mito fosse proprio una dragonessa quindi un drago donna dal collo lungo per cui le donne di oggi per imitare o per certificare la loro appartenenza al lignaggio che ha come capostipite proprio la dragonessa mitica vestono questo stesso ornamento la cosa interessante e triste al tempo stesso è che come vi dicevo il governo tailandese volendo promuovere il turismo nelle zone del nord dove i turisti andavano alle spiagge del sud ma poi tornavano a Bangkok e prendevano un aereo per tornarsene nei loro luoghi d'origine invece hanno deciso di trovare il modo di scogitare una formula per cui anche il nord dell'Atalandia potesse essere diciamo irrorato da turisti e essendo una natura abbastanza impervia siamo eteropici ma sono eteropici molto secchi per certi versi quindi rispetto alle zone dove più umide che sono quelle della Piamura quindi dove sono zone boscose essenzialmente c'è macchia macchia alternata a dei bellissimi campi terrazzati o dei campi di pianura ebbene il governo ha detto l'unica cosa l'alimento su cui possiamo investire sono i tribali cioè sono le etnie tribali e in primis l'investimento è stato fatto proprio sui profughi a spese dei profughi per cui queste etnie dei Kayan che all'inizio si trovavano in dei campi profughi che ancora esistono in queste zone della Thailandia del nord est della Thailandia gli è stato proposto di continuare a rimanere profughi però con una serie di restrizioni e di diritti molto pesanti o di uscire essere liberate dai campi profughi e essere insediate all'interno di dei villaggi artificiali creati opportunamente dove le donne giraffa insieme alle loro famiglie i loro uomini i loro figli potevano abitare ovviamente quindi sono dei villaggi a tutti gli effetti ma la caratteristica e la peculiarità che sono dei villaggi aperti ai turisti e creati appositamente perché i turisti possano visitarli ecco quindi che nasce il grande business turistico delle donne giraffa pubblicizzate oramai quasi tutti i pacchetti turistici delle agenzie talandesi contemplano al loro interno anche un'escursione verso le montagne dove assieme eventualmente ad altre etnie di montagna anch'esse bellissime coloratissime con tradizioni splendide beh tra questi è importante non si può evitare di non visitare anche i villaggi delle donne giraffa già lo capite da soli che ridurre un'etnia essere definita un popolo antico essere chiamato semplicemente l'etnia delle donne giraffa è già di per sé una riduzione ben forte quando poi questa etnia viene trasformata interamente in un bene da sfruttare a fini turistici capite benissimo che quell'etnia non è più un'etnia praticamente la vita in quei villaggi non è più una vita di villaggi quando dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio voi avete centinaia centinaia di turisti che senza alcuna discrezione visto che hanno pagato un biglietto di ingresso per entrare in questi cosiddetti villaggi hanno il diritto di fotografare come dove e comunque ciò che vogliono quindi ondate di turisti dalla mattina alla sera 365 porta questo ovviamente un'erosione fortissima a livello culturale è il minimo a livello umano lasciamo perdere immaginate se appunto noi stessi venissimo ci trovassimo a trasformare le case dove abitiamo le città dove abitiamo o i villaggi dove abitiamo in dei luoghi turistici immaginate che dalla mattina alla sera voi fate la vostra vita ma allo stesso tempo avete un giapponese un americano un canadese un tedesco che entrano in casa vostra mentre voi state facendo le pulizie magari sul pianerotto vi fanno le foto mentre state allattando il vostro figlio vi fanno le foto mentre voi state estesi sulla marca per una siesta vi fanno le foto praticamente il vostro mondo comincia a essere abitato da presenze continue e da scatti da click continui per cui la vostra vita diventa semplicemente una vetrina che permette a centinaia di persone di fare una sorta di safari fotografico rispetto a voi dove ahimè non sono gli animali della savana ma sono delle donne giraffa a diventare vittima o oggetto comunque di questo interesse da safari quindi questi villaggi posticci questi villaggi artificiali hanno fatto sì che appunto io lavorassi su questa etnia dal punto di vista in parte antropologico ma molto più mi interessava l'aspetto artistico come utilizzare l'arte per denunciare questo scempio della dignità umana in generale nello specifico della dignità della bellezza femminile ho fatto questo lavoro che è durato per tre anni dedicato alle donne giraffa chiamandolo appunto lo zoo delle donne giraffa quindi ho lavorato negli zoo umani della Thailandia filmando fotografando scrivendo talvolta intervistando e ne è uscito una serie di lavori innanzitutto un libro un libro con appunto un cortometraggio inallegato e altre cose recentemente è uscito un libro di cui a breve vi parlerò e che parla proprio di come Giovanni Lindo Ferretti abbia gentilmente partecipato a questo mio progetto offrendosi come voce narrante per il testo che accompagna le immagini del cortometraggio in Super 8 questo cortometraggio che poi ha per titolo Non Devo Guardarti Negli Occhi è quindi un defilé di immagini in Super 8 in bianco e nero di queste donne anch'io mi fingo turista e anch'io quindi filmo e fotografo come se fossi un turista per dare una prospettiva diversa però su come questa realtà viene vissuta e come erode secondo dopo secondo appunto la dignità degli esseri umani ho voluto scrivere un libro che si chiama appunto Non Devo Guardarti Negli Occhi che è uscito da poco e che racconta veramente una mezza giornata per me magica che è stata quella in cui Roberto Passuti che è quindi vi dicevo il co-creatore assieme a me del progetto Stenopeica nonché la persona che si è occupato della colonna sonora di questo mio cortometraggio e il sottoscritto siamo andati da Giovanni a casa sua per poter registrare la voce la sua voce che narra interpreta il mio testo il testo che avevo scritto per questo cortometraggio ne è uscito un libro ma perché ne è uscito un libro perché è stata una giornata talmente bella densa e ricca che non poteva non potevo far sì che uscisse semplicemente un cortometraggio e poi niente che raccontasse come questo cortometraggio ha assunto un significato particolare anche grazie alla presenza di Giovanni Lindo Ferretti tutto molto bello nel senso che abbiamo fatto queste registrazioni nella famosa camera da letto di Giovanni Lindo allestendo quindi uno studio improvvisato grazie ma perfetto grazie alle capacità di Roberto Passuti e il tutto si è svolto ovviamente in una modalità splendida perché c'è stata una grande un grande ascolto un'eorme sensibilità da parte di Giovanni mi ricordo siamo andati lì mentre Roberto stava mettendo su i cavalletti per sistemare i microfoni AKG i 418 stava allestendo appunto i cavi stava montando il mixer e tutto il resto Giovanni stava leggendo i testi che gli avevo dato in mano per appunto sapere cosa avrebbe letto gli davo qualche consiglio mi chiedeva questo come va pronunciato questo come andrebbe detto e così via dicendo e il bello è stato che Giovanni è seduto vicino alla finestra ha inforcato gli occhiali e su questi occhiali appunto c'è questo aneddoto dell'occhiale come simbolo dell'intellettuale almeno questo lo era negli anni settanta e dopo un po' che Giovanni stava leggendo dice ma ve lo dovete dire questa roba che non può essere letta così e quindi Giovanni che in quel momento era ancora vestito con una sorta di camicia militare un paio di pantaloni neri e se ne stava tranquillamente in ciabatte a casa era a casa sua ovviamente eravamo noi che abbiamo compiuto l'incursione l'incursione Giovanni dice non posso non posso leggere questa cosa e parlare di queste cose con in ciabatte quindi lascia i fogli mette gli occhiali sopra i fogli e il tutto viene appoggiato appunto sul davanzare della finestra scompare Roberto e io ci guardiamo negli occhi non sappiamo che cosa stava succedendo di strano dopo un po' ritorna Giovanni vestito allo stesso modo ma indossando come si direbbe talvolta nell'argot italiano indossando degli stivali di pacca cioè si era messo un paio di stivali neri perché dice non posso interpretare un testo così non perché sia il testo ma il contenuto del testo e la dimensione umana che viene illustrata di cui si parla in questo testo in questa maniera quindi ci vuole una sorta di divisa ma non tanto una divisa ci vuole una dignità maggiore che non è quella di un narratore in ciabatte e buona la prima con Giovanni in una sola infilata facciamo questa interpretazione e tra l'altro Giovanni preso da una sorta di di ispirazione istantanea non solo narra ma in alcuni casi inizia a interpretare cantando alcuni pezzi di questo testo un testo che tra l'altro ho visto che Giovanni evidentemente l'ha molto colpito perché in alcuni suoi concerti lo lo ha riproposto alcuni piccoli accenni tra una canzone e un'altra oppure durante una canzone so che alcune parti come come queste ma anche altre dei nostri testi di Kathmandu sono stati evidentemente da lui sono piaciute quindi li ha riutilizzati con grandissimo piacere nostro ovviamente quindi facciamo questa infilata facciamo questa registrazione buona la prima e da questo lavoro come si fosse veramente una polaroid di quella giornata di tutto ciò che è successo in quella giornata del buon vino rosso che ha accompagnato quella giornata perché Giovanni Nendoferretti e la convivialità con Giovanni se non c'è del buon vino rosso c'è qualcosa che manca ma perché il vino viene onorato come presenza è come se fosse un si parla si parla di cose eccelse si parla di cose anche meno eccelse alla volte ma ci vuole un testimone questo testimone non è il semplice potere alcolico intrinseco nell'alcol ma è qualcosa di più nel senso che il vino rosso è un nome che partecipa alle conversazioni è una presenza che incarna un potere divino è il potere divino di Dioniso è il potere divino come direbbero gli spagnoli di Duende cioè di questo spiritello che talvolta può avere delle fattezze apparentemente demoniache ma che non è mai demoniaco perché il Duende in realtà è un genio che ispira è lo stesso genio che come ci ricorda Garzia Lorca il Duende quando possiede possiede un cantante possiede una danzatrice di flamenco e quando c'è il Duende lo spettatore colui che assiste quindi allo spettacolo sia esso una danza sia esso un concerto sia esso una declamazione di una interpretazione di una poesia sente la differenza e quando c'è questa differenza dice c'è il Duende quando non c'è questo elemento in più questa ispirazione questo elemento geniale è unico nell'interpretazione il Duende non c'è e quindi quando normalmente c'è convivialità con Giovanni Lindo è necessario che ci sia anche questo Duende fondamentale non di contorno che è appunto del Buon Vino Rosso e così si è conclusa questa giornata e da qui è uscito questo splendido lavoro che è apparso appunto come cortometraggio accompagnando un mio volume il primo che è stato Lo zoo delle donne e giraffa che è stato pubblicato anche in inglese e poi quest'altro volume molto più recente dove ci sono anche immagini fotografiche di quel giorno che appunto non devo guardarti negli occhi che racconta proprio in maniera ben più dettagliata di questa splendida giornata da lì in poi il rapporto con Giovanni è rimasto è rimasto ovviamente più nel sentimento che nella realtà delle cose poi la mia vita mi ha portato lontano oramai sono da 10 anni fisso in Francia abito in Francia ma prima c'erano percorsi di più lunga gittata che forse riprenderanno a essere nuovamente di larga gittata tra l'Oriente e l'Europa tra l'Asia appunto e l'Italia c'è stata l'Inghilterra di mezzo c'è stata tante altre cose episodi facili altri molto meno facili nella mia vita come nella vita di Giovanni e questo appunto ha fatto sì che almeno nel concreto nel concreto diciamo le fila della comunicazione si sono si sono diradate poi ci siamo sentiti telefonicamente poco tempo fa quindi insomma poi i rapporti sono comunque rimasti nella loro essenza e ho voluto dare questa mia piccola testimonianza minima rispetto a a Giovanni Indo Ferretti al suo genio artistico alla sua capacità no capacità il suo aspetto umano profondamente umano e l'ho voluto fare perché ho seguito e ho conosciuto Giovanni in un grande periodo di cambiamenti io l'ho conosciuto appunto a Roma quando appunto per grazia ricevuta e PGL erano state create c'era una affinità individuale tra Giovanni e quella nuova formazione profonda perché per grazia ricevuta Giovanni era stato male tempo prima e era guarito dal male appunto di cui era caduto vittima a cui a questa la malattia è sempre un momento di riflessione per chi lo sa cogliere in tutte le tradizioni spirituali ad esempio nello sciamanesimo quello che ho conosciuto io quello emalaiano un ragazzo per diventare uno sciamano deve essere vittima di una malattia non è una malattia umana è una malattia causata dagli spiriti della selva quindi da quell'entità che poi chiamano il neofita e lo trasformeranno più tardi in uno sciamano da quell'entità quindi che sono la controparte invisibile della dimensione visibile del lavoro rituale di uno sciamano quindi le entità della foresta per attirare l'attenzione dello sciamano lo devono mettere in ginocchio in primo luogo e quindi mandano delle malattie malattie che spesso non sono malattie comune che sono malattie fisiche ma della sintomatologia molto particolare a cui poi si aggiungono spesso delle patologie di natura psichica per cui dei disordini mentali caos deliri che è un momento necessario il bambino deve essere trascinato fuori di forza dalla sua vita normale perché possa mettere l'orecchio al mondo dell'invisibile a ciò che gli spiriti da foresta vogliono sussurrargli nelle orecchie e se questo non avvenisse se non ci fosse questa rottura e non ci fosse questa malattia che alle volte può durare mesi può durare anni il ragazzo non potrebbe tirar fuori le sue antenne non potrebbe passare da una dimensione di quotidianità a una dimensione sacra e sacralizzata della propria vita lo stesso lo troviamo in tutte le tradizioni lo troviamo nel sufismo dove spesso coloro che sono ad esempio nel nord Africa coloro che sono vittima di una malattia e spesso questa malattia non è solo una malattia fisica c'è sempre qualche gin quindi qualche genio invisibile di mezzo quando viene curata e quindi la persona malata viene presa in carico dalle confraternite sufi che si occupano di terapia templare cioè di terapia appunto declinata secondo una modalità sacra e sacramentale ebbene la persona quando guarisce in genere diventa un adepto della stessa confraternita quindi è un modo per cui una persona è sottratta di forza dal mondo profano per essere inserito nel mondo dello spirito nel mondo del sacro se pensiamo a San Francesco stessa cosa San Francesco è diventato San Francesco perché si è ritrovato prigioniero nelle umide orribili prigioni di Perugia quando c'era questa guerra fra Sisi e Perugia San Francesco Francesco all'epoca appunto a luni di santità durante una battaglia fu catturato fu portato a Perugia messo in queste orribili carceri perugine e lì si ammalò ma ammalando si guarda caso non solo si ammalò già a quanto pare l'esile Francesco si ammalò malamente fisicamente ma fu proprio in quelle circostanze che San Francesco un po' in maniera simile ai giovani i malaiani chiamati dagli spiriti della selva cominciò a sentire delle voci e dal seguire quei sussurri poi Francesco divenne quello che è diventato quindi un santo guidato direttamente dalla mano di Dio da uomo è diventato un essere che si è aperto alla possibilità di accogliere in pieno in sé la presenza divina che è latente ed è presente in maniera appunto periferica in ciascuno di noi ma che in certe persone diventa invece una presenza reale quotidiana vissuta potente incontenibile che ha fatto sì che Francesco diventasse quello che è diventato questa parentesi per dire che probabilmente anche la malattia di Giovanni ha aperto delle riflessioni ha aperto delle riflessioni anche lì se Giovanni si è ritrovato in ginocchio probabilmente si è ritrovato spesato interpreto io mi prendo tutta la responsabilità di queste mie licenze poetico immaginative rispetto a quello che può aver sentito Giovanni e però come uno sciamano originario dell'Emilia le sue riflessioni hanno portato poi a aperture diverse da quelle di uno sciamano imalaiano di un neofito imalaiano ed è qui che si è aperta in Giovanni in ginocchio probabilmente questa apertura verso la dimensione dello spirituale del sacro quindi la la cosiddetta quella che viene volgarmente chiamata da coloro che criticano giudicano commentano ciò che accade nel profondo delle persone senza avere la minima dignità di rispettare ciò che accade nel profondità delle persone è degno di per sé solo perché già accade nelle profondità di un essere umano quindi è difficile giudicarlo dall'esterno e viene comunque chiamata la conversione la conversione di Giovanni Lindo che appunto ha fatto sì che Giovanni Lindo in tutte le sue modalità che è stato appunto quello delle ribelle del ribelle punk e mi limito a questo perché molto di più ovviamente è stato detto su questo suo aspetto su questi suoi anni più o meno giovanili più che altro Giovanni stesso ne ha parlato in maniera autobiografica in maniera eccelsa quindi è inutile raggiungere questo però da tutti quei Giovanni che ci sono stati c'è è germogliato un altro nuovo Giovanni un Giovanni quindi cristiano un Giovanni aperto alla fede un Giovanni che prega un Giovanni che non canta più appunto inni al materialismo e alla ribellione ma inni a a qualcos'altro è una ribellione che forse è una ribellione molto più più forte anche perché è una ribellione molto più difficile da dire e proprio perché è difficile da dire talvolta da fuori può essere malinterpretata ma è comunque una forte ribellione perché rompere uno schema è scegliere avendo già traghettati essendosi già traghettati grossomodi dopo la metà del secolo di vita terrena traghettarsi dal mondo della materia al mondo dello spirito è affare grosso e denuncia tra l'altro che tutte le varie modalità vissute da Giovanni Lindo Ferretti probabilmente avevano già in sé questo seme questo germe che poi è sfociato in questa in questa cosiddetta conversione e quello che mi interessa è io non spesso lancio per nessuno non mi interessa io parlo per me per quello che ho potuto conoscere Giovanni Lindo e scambiare a questo riguardo più nel silenzio che nella parola con Giovanni Lindo Ferretti riguardo a questo a questo suo chiamiamolo cambiamento avvicinamento alla religione cattolica anche nelle sue forme diciamo più esteriori più formali più ritualizzate ma anche in un senso pubblico appunto non nella ritualità che ognuno di sé compone ne crea nei momenti di silenzio nei momenti di preghiera e di contemplazione profonda beh questo passaggio è stato da molti giudicato come un tradimento Giovanni Lindo Ferretti si era incoglionito Giovanni Lindo Ferretti come tutte le persone che invecchiano a un certo punto uno se la fa sotto e deve cominciare a darsi delle spiegazioni mentre prima era talmente pieno di energia vitale che bastava l'energia vitale a dare un senso alle cose quindi poi invece sembra che le cose uno da un certo momento in poi infiacchendosi l'energia vitale se le debba andare a cercare fuori cioè chi diventa buddista chi si fa l'ayahuasca a 50 anni sono nati e chi invece avendocela portata di mano diventa appunto un bigotto cattolico appunto non c'è bisogno di spezzare le lanci o meglio c'è bisogno secondo me di spezzare le lanci nei riguardi di chiunque a un certo punto nella vita faccia faccia dei cambiamenti radicali perché ci sono dei cambiamenti che quando avvengono è veramente difficile esprimerli e dirli e quindi diventano molto vulnerabili perché dall'esterno a quel punto se tu non dici più di tanto o se dici solo di alcune cose poi dall'esterno non si sente legittimato a infierli con qualsiasi giudizio perché a quel punto essendo poche le informazioni molto si può dire a riguardo e quindi in genere molti anni sono allontanati da Giovanni Lindo e ripeto questa non è una difesa di Giovanni Lindo Ferretti assolutamente non mi interessa è solo mantenere una linea di continuità coerente con quello che ho detto dall'inizio cioè con quella persona a cui io un giorno ho porto come si dice porgere ho offerto un mio cortometraggio e quella stessa persona gentilmente ha aperto un sacco per accogliere quel mio messaggio e quindi sono fedele a quel messaggio parliamo del 2003 ora siamo un po' più in là io sono fedele a quella coerenza di quella persona che ho conosciuto e che sento per molti versi ancora coerente nonostante i cambiamenti che in questi vent'anni quasi sono ovviamente avvenuti secondo me è importante rispettare ogni cambiamento perché ci vuole coraggio ci vuole ovviamente una grossa determinazione a una certa età a cambiare a cambiare radicalmente e accettare tutte le conseguenze di un cambiamento che non è solo interiore ma è anche è anche non è solo interiore ma è anche esteriore non è solo esteriore ma è anche interiore quello che interessa a me e che in un qualche modo parla direttamente di Giovanni Lindo e che mi sembra di aver capito ed è questo il senso forte tutte le varie declinazioni di Giovanni sono tutte state accettate via via che uno cambia ed è questo il segno secondo me del cambiamento giusto del cambiamento vero del cambiamento positivo via via che uno cambia è come se cambiasse pelli come un serpente che fa delle metamorfosi stagionali ma quello che è importante quando uno gira la testa e vede la pelle che ha lasciato non la rinnega sa che quella pelle di prima è stata la pelle che ci ha portato la pelle di dopo e ci porterà forse ad altre pelli ancora da cambiare quindi non c'è paura del cambiamento perché si sa che quel cambiamento è naturale se accade deve avvenire ed è giusto ed è coerente quando guardandoci addietro non abbiamo nulla di cui schifarci di quello che abbiamo fatto quindi quando guardiamo dietro non vediamo uno specchio rotto fatto di tanti frammenti ma vediamo invece una sorta di continuità c'è un filo anche se può sembrare incoerente ed è questo secondo me il segno anche che alcuni di noi sono mossi in questi cambiamenti e fin dall'inizio siamo mossi verso dei cambiamenti che possono sembrarci le esperienze più strane passare dal punk e dagli eccessi e dagli eccessi da un senso a passare invece alla declinazione della musica come forma liturgica e come atto sacro e sacramentante di per sé questo accade quando guardandoci dietro appunto e sentiamo c'è una coerenza e in questo caso sentiamo se questa coerenza c'è che probabilmente siamo mossi da qualcosa di più profondo delle nostre scelte esistenziali o dei nostri capricci ma c'è probabilmente un qualcosa di più profondo e di più grande di noi per non dire di infinito che ci sta guidando e penso per chiudere questa dissertazione di questo racconto di un'esperienza mia con Giovanni Lindo Ferretti di conoscenza umana ma anche di frequentazione e collaborazione potremmo dire artistica le scelte secondo me sono valide quando quando uno può dire veramente a se stesso a se stesso davanti a uno specchio agli altri questo sono adesso perché tutto quest'altro sono stato fino ad ora io sono questo perché ho avuto il coraggio di essere tutto quello che sono stato fino a ora e avendo avuto il coraggio di essere tutto quello che sono stato fino a ora quello che io sono ora è qualcosa di certo è qualcosa che se è accaduto non poteva non accadere se non in questo modo